Non c'è più alcun paziente covid ricoverato al San Giovanni di Dio. Si svuota dunque il reparto allestito all'interno dell'ospedale di Agrigento che torna così interamente a disposizione dei pazienti no covid. Che fosse ormai una questione di giorni lo aveva annunciato tra l'altro lo stesso manager dell'ASPE Mario Zappia nel suo video messaggio della scorsa settimana quando, alla luce di una situazione negli ospedali non più preoccupante, aveva non a caso dichiarato che l'ospedale di Agrigento sarebbe presto tornato alle sue originarie funzioni. E' sicuramente questo il dato più rilevante che viene fuori dall'ultimo bollettino dell'ASPE quello che fa riferimento alla giornata di ieri. Resta l'ospedale di Ribera dunque l'unico punto di riferimento del territorio per i pazienti covid. Attualmente sono otto le persone ricoverate in degenza ordinaria al Fratelli Parlapiano più un paziente in terapia intensiva. Un altro agrigentino si trova ricoverato presso un ospedale fuori provincia per un totale di 10 agrigentini ricoverati, mentre altre 278 persone positive al covid non necessitano di ospedalizzazione e si trovano di conseguenza in isolamento presso le proprie abitazioni. I nuovi casi di positività al covid riscontrati ieri in provincia di Agrigento sono 39 su 171 tamponi processati, 23 i guariti. Invariata la situazione a Sciacca con 15 contagiati, un caso in meno a Ribera che scende a 4, 7 i casi a Siculiana, 9 ad Agrigento, 7 a Bivona, 1 a Caltabellotta, 10 a Campobello di Licata, 64 a Canicattì, 3 a Cattolica e Eraclea, 5 casi in meno a Favara che scende a 10 soggetti positivi al covid, 21 a Licata e cioè 2 in meno, un caso in meno a Menfi che scende a 4, 2 i positivi a Montallegro, mentre si registrano 5 nuovi casi a Palma di Montechiaro per un totale di 44 e 4 nuovi casi a Portempedocle per un totale di 21.